salve cari telespettatori vediamo il benvenuto alla diretta di oggi per rispondere ad alcune delle domande più popolari che voi i nostri spettatori ci avete posto dopo aver assistito allo storico forum online crisi globale la nostra salvezza e l'unione che si è svolto il 12 novembre 2022 sulla piattaforma del progetto società creativa l'area salita del magma sta venendo in tutto il mondo e questo non fa che aumentare a causa dell'espostamento del nucleo le forze centrifughe stanno accelerando e il rimbalzo del nucleo inizia a spingere bruscamente il magma verso l'esterno l'aumento del magma sta già causando uno sciame sismico in islanda l'ebollizione del magma le esplosioni per cavitazione mille e venti al giorno pensate hanno cominciato a verificarsi esplosioni all'interno del nostro pianeta della potenza equivalente all'esplosione di migliaia di bombe nucleari la risalita del magma scatenata erozioni vulcaniche uno dei super vulcani più famosi yellowstone sta mostrando allarmati segni di attività sismica c'è stato un aumento anomalo dell'attività vulcanica ogni 12 mila anni ogni 12 mila anni si verificano cataclismi ciclici ricercatori ritengono che questa ciclicità sia di natura galattica abbiamo capito quando raggiungerà il suo apice e come finirà i disastri climatici che seguiranno saranno molto più gravi e catastrofici il pianeta non sopravviverà adesso siamo entrando in un ciclo cataclismatico più più pericoloso di 24 mila anni l'ecologia del pianeta è stata uccisa è stata seriamente indebolita quanto tempo rimane prima che avvenga la catastrofe del nostro ciclo si attendo in un ciclo cataclismatico più pericoloso di 24 mila anni l'ecologia del pianeta è stata visto è possibile trovarlo sul sito web del progetto società creativa creativesociety.com con la traduzione in 150 lingue. Oggi i relatori del forum si sono riuniti di nuovo per rispondere alle domande più frequenti che abbiamo trovato nei commenti e nelle vostre lettere. Oggi risponderemo a domande su clima, tecnologia, politica e mass media. Vi ringraziamo per le vostre risposte ben ponderate. E ora cominciamo. Elisabetta, una delle domande della gente. Come fate a sapere che ci resta poco tempo? Buonasera cari amici. Sì, ci resta davvero poco tempo. So che non volete crederci, ma è così. Al forum Crisi Globale, la nostra salvezza all'Unione del 12 novembre di quest'anno è stato presentato nel rapporto sul clima basato sui dati delle ricerche di un ampio gruppo di scienziati dal 1996 fino ad oggi. Il rapporto includeva non solo dati sul cambiamento climatico, ma anche dati provenienti da molte altre discipline, geologia, volcanologia, sismologia, magmatismo e paleomagmatismo, sedimentologia, studi sulle zone criolitiche, fisica terrestre, fisica atmosferica e decine di altri campi. Nessun altro al mondo ha realizzato un studio più completo ed esteso che tenga conto di tutti i fattori di cambiamenti contemporanei, delle anomalie e delle minacce in tutti gli strati della Terra. Il risultato di questo lavoro interdisciplinare nel mondo è un modello matematico dello sviluppo degli eventi. I risultati presentati dei calcoli del modello matematico hanno dimostrato che alla nostra umanità restano 6-7 anni relativamente tranquilli e che in meno di 14 anni il nostro pianeta potrebbe trasformarsi in un pianeta senza vita come Marte. Un pianeta che non avrà più tutta l'atmosfera a cui siamo abituati, né un campo magnetico, né oceani, né vegetazione, né noi. 8 miliardi di esseri umani viventi. Vorremmo tanto che il modello presentato fosse sbagliato, ma purtroppo ogni giorno viene confermato da nuovi record, anomalie e studi scientifici. Ecco ne sono alcuni. Al forum del 12 novembre è stato detto che nella fossa delle Marianne avverrà una catastrofica eruzione di magma che causerà un impatto idraulico, un colpo d'ariete, fatale sul nostro pianeta. Due giorni dopo il forum, il 14 novembre, il Servizio Geologico degli Stati Uniti ha dichiarato che il vulcano sottomarino Ahu parte di un arco vulcanico nell'isola Marianne sottentrionale ha iniziato a eruttare a metà ottobre. Questo suggerisce che il magma sta già risalendo. Se pensate che non ci sia nulla di male nell'eruzione di un vulcano sottomarino, vi sbagliate molto. Se l'acqua fredda dell'oceano, combinata con il magma caldo è arroventato sul fondo della fossa delle Marianne e si rompe improvvisamente in osigeno e idrogeno. Si creerà un'enorme esplosione che produrrà un'enorme onda d'urto. Perché ci sarà un'esplosione di magma sul fondo delle fosse delle Marianne nonostante 11 chilometri di colonna d'acqua, che rappresenta una pressione enorme, chiedete voi. Dopotutto si ritiene che a tale profondità l'acqua non possa abolire a causa dell'alta pressione. Abbiamo ricevuto molte domande di questo tipo e ora lo spiegheremo di nuovo. Il fatto è che durante questo processo non si verificherà l'ebollizione come formazione di vapore, ma piuttosto la decomposizione dell'acqua in idrogeno e ossigeno. Si tratta di una reazione che avviene a temperature molto elevate. Il magma, che risale dalle profondità, è molto più caldo e ha una composizione chimica diversa rispetto al magma che normalmente si riversa durante le eruzioni sottomarine. Ecco perché un'esplosione di magma così caldo pressurizzato da una colonna d'acqua provocherà un'esplosione migliaia di volte più potente di quella dell'intero arsenale nucleare della Terra. E questa esplosione squarcia l'atmosfera. A conferma di ciò vorremmo citare un altro articolo pubblicato nove giorni dopo il forum. Avete tutti sentito parlare dell'eruzione del vulcano di Hunga Tonga Hunga Haapai? Avvenuta nel gennaio di quest'anno. Solo ora i ricercatori hanno dichiarato che si è trattato dell'eruzione più forte mai registrata nel corso della nostra civiltà. Pensate, la più forte mai osservata. Perché? Perché l'eruzione ha raggiunto un'altezza record ed è stata la prima penetrazione nella mesosfera che gli scienziati abbiano mai visto. La mesosfera inizia a un'altitudine di 50 chilometri e l'ulcano ha inlanciato gas a cenere a 57 chilometri di altezza nel suo punto più alto. E questo nonostante fosse solo l'eruzione di un vulcano sottomarino. Perché è successo? Innanzitutto, i ricercatori hanno notato che nelle precedenti eruzioni di Tonga del 2009 e del 2014 non era immersa lava di composizione simile. Nelle precedenti eruzioni il magma era rimasto intrappolato in una camera intermedia, ma questa volta il magma fresco è risalito rapidamente senza perdere tempo a compiere cambiamenti climatici. Il nuovo magma presentava un gran numero di bolle ed era molto più caldo e reattivo. Il secondo punto, il vulcano era ricoperto da uno strato d'acqua. Secondo il professor Kulakov, che studia la geodinamica e i processi del mantello, l'acqua è la sostanza più esplosiva della Terra. Spesso, infatti, quando l'acqua entra in contatto con la lava durante le eruzioni, si verificano esplosioni molto più potenti di quelle che si verificherebbero se l'eruzione vulcanica venisse senza acqua. Anche la pioggia ordinaria aumenta l'esplosività di un'eruzione. Così, ad esempio, le piogge hanno causato l'eruzione del vulcano Kilaue nel 2018. E ora immaginate cosa accadrebbe se milioni di metri cubi di magma rovente incontrassero milioni di metri cubi di acqua nella fossa delle Marianne. Se anche una normale eruzione è in grado di squarciare la mesosfera già ora, non è difficile immaginare una rottura atmosferica come risultato di una simile esplosione. Ogni giorno ci saranno sempre più notizi che confermeranno questo modello. Le risorse dei volontari di società creativa non saranno sufficienti per elaborarle. Pertanto saremo molto felici di invitare tutti a unirsi a noi nella nostra ricerca. Molto presto ci sarà una nuova piattaforma che permetterà a tutti di essere coinvolti nel proseguimento di questa ricerca interdisciplinare. Se vi imbattete in una notizia o in un articolo scientifico che supporta il modello presentato nel forum, potete inviarlo a questa piattaforma, commentarlo e condividerlo con noi, con tutti. Questa sarà la ricerca di tutta l'umanità. Grazie. E ora passeremo alla seconda domanda, Olga. Certo, è sensazionale, è un vero e proprio blockbuster. Un colpo d'arietti, impatto idraulico. I film sono film, ma questo è un modello matematico attentamente calcolato che ci riguarda in tempo reale. Questo è il blockbuster in cui viviamo adesso. Non c'è bisogno di biglietti per il cinema o popcorn. Sta accadendo già ora. Dovreste vedere voi stessi di cosa si tratta. Tali, come ha reagito la gente che ha visto il forum? Sì, grazie, Olga. Stiamo vedendo quanto interesse hanno suscitato queste informazioni online nelle reti dei social media. Le persone condividono le loro opinioni e realizzano video su TikTok e YouTube sul forum. Alcuni video sono diventati virali e hanno ricevuto milioni di visualizzazioni e decine di migliaia di commenti. Le persone capiscono davvero che si tratta di un'informazione vitale e salvavita per tutti. Lo stesso vale per Twitter, dove non solo sulle account ufficiali della società creativa e della crisi globale si possono trovare le informazioni più recenti, ma anche su molteplici condivisioni del link al video del forum. Così come le ricerche di avere una discussione aperta sul problema e sulle soluzioni che sono state offerte al forum, che sono state presentate al forum. L'hashtag OurSoulVivalismUnity è diventato virale, così come le richieste del pubblico di iniziare finalmente a parlare delle vere cause della crisi del cambiamento climatico. E dopo ci torneremo. Sì, grazie Tali. Ci rendiamo conto che il tempo non è dalla nostra parte. Rivediamo una domanda sul clima, perché questa informazione avrebbe dovuto essere l'argomento più scottante in tutti i media, che invece tacciono. Cerchiamo quindi di capire quanto tempo abbiamo realmente a disposizione. Una delle domande più frequenti che riceviamo è se si dice che le catastrofi climatiche sono in aumento e che ci rimane poco tempo a causa della ciclicità, com'è possibile che l'uomo possa combattere la natura. Olga, un'ottima domanda. In effetti l'intero forum era dedicato alla ricerca di una via d'uscita e il nome era proprio La Nostra Salvezza e l'Unione. Ed è possibile, ed è nell'unione. Ma come possiamo combattere con la natura? In che modo unire le persone per costruire la società creativa risolverà il problema della risalita del magma e dei cambiamenti nel nucleo? Iniziamo dall'inizio. Partiamo dall'inizio. Ora i cambiamenti climatici, le eruzioni vulcaniche e i terremoti stanno iniziando ad aumentare su tutti i pianeti del sistema solare. Dove ci sono vulcani, ovviamente, sono possibili terremoti. Guardate le notizie del 2022 sui terremoti di Marte e sulla risalita del magma su Marte. Rimarrete scioccati dalla sincronia con i processi sulla Terra. Ciò suggerisce che i nuclei di tutti i pianeti, così come il nucleo della Terra, stanno subendo cambiamenti drammatici. L'energia si sta accumulando al loro interno, si stanno riscaldando e allontanando dal loro centro di massa. E questo sta accadendo anche sui pianeti giganti gassosi. Come sono arrivati gli scienziati a questa conclusione? Se siete interessati, tratteremo questo argomento la prossima volta. Quindi, un'energia supplementare sta arrivando ai nuclei di tutti i pianeti. Nessun altro tipo di energia o impatto che conosciamo sta producendo sintomi simili a quelli che si stanno verificando in tutto il sistema solare. Non si tratta, cioè, di energia gravitazionale, elettromagnetica, di raggi galattici o di materia oscura. Ma questa energia è di natura fisica, il che significa che può essere studiata. Se non sappiamo fino ad oggi cosa sia questa energia, significa semplicemente che la nostra scienza non è ancora riuscita a prenderla. Duecent'anni fa non avremmo mai potuto immaginare che avremmo comunicato via internet, ma ora lo facciamo. Quindi, dobbiamo studiare un impatto finora sconosciuto, capire come funziona e come contrastarlo. Ma non abbiamo duecent'anni, bensì cinque o sei anni. Che cosa significa? Che non c'è tempo per rilassarsi. Dobbiamo riunire tutto il potenziale scientifico e tecnologico dell'umanità, mobilitare i nostri sforzi e cercare di studiare questo impatto e capire come neutralizzarlo in modo che una tale quantità di energia in eccesso smetta di arrivare al nucleo. Allora il nucleo smetterà di riscaldarsi e di vibrare intensamente. Poi il magma si calmerà gradualmente e smetterà di salire. Naturalmente non accadrà immediatamente, ci sarà un'inerzia, ma il pianeta non morirà e quindi avremo la possibilità di sopravvivere. Dobbiamo quindi trovare una soluzione al più presto. Abbiamo bisogno delle persone più intelligenti del pianeta, dei geni, perché gli specialisti comuni potrebbero non essere in grado di farlo. Abbiamo troppo tempo e, siamo onesti, potrebbero non avere il cervello. In questo momento queste persone non vedono nemmeno che il clima sta cambiando non a causa della CO2. Abbiamo quindi bisogno delle persone più brillanti del pianeta, ma non le conosciamo nemmeno. Perché? Perché ogni paese ha il suo complesso militare industriale e gli stati trovano le persone più intelligenti e le prendono per creare armi supermoderne, bombe atomiche, missili supersonici, eccetera eccetera. Questi geni siedono in uffici di progettazione chiusi, isolati gli uni dagli altri, perché ognuno di loro custodisce i più importanti segreti di Stato sulla creazione di armi. Ma dobbiamo riunirli, perché un solo genio non sarà in grado di risolvere il complesso compito che stiamo affrontando. Abbiamo bisogno di una squadra che lavori in risonanza. Dopotutto ciò che non può fare una persona sola può fare una squadra, perché ogni membro di una squadra rafforza e completa gli altri. E ora immaginate che ogni paese debba regalare i geni, i propri geni che conoscono i segreti dello Stato. in modo che iniziano a lavorare insieme. Quale paese lo farebbe? O i servizi segreti permetterebbero a queste persone di collaborare apertamente con una squadra? Permetteranno loro di condividere tra loro scoperte che ora vengono usate per le armi, ma che potrebbero aiutare e salvare tutte le nostre vite? Purtroppo no. In un mondo dominato dal denaro e dal potere, il buonsenso è assente. Nessun paese, pur comprendendo la gravità della minaccia, lo farà, perché i politici hanno paura di perdere potere e denaro. Quindi abbiamo bisogno di condizioni in cui gli Stati non abbiano paura di cedere ai propri geni per iniziare a lavorare insieme. Quali sono queste condizioni? Un mondo senza guerre, governato non dai politici, ma dalle persone stesse. È necessario che la maggioranza delle persone sane di mente si unisca che prevalga il buonsenso. Dopotutto c'è tempo per i segreti militari, per difendere il potere e il denaro dei politici. Quando l'umanità è sull'orlo della distruzione del pianeta, o forse dovremmo dimenticare le lotte e fare tutto il possibile perché tutti sopravvivano? Allora come creare un contesto in cui sia possibile per pochi individui decidere se l'umanità nel suo complesso debba morire o vivere? Le persone stesse devono unirsi e creare pacificamente un modello di società in cui il valore della vita sia al primo posto, i benefici siano garantiti a tutti e le guerre non siano possibili. Questo è esattamente ciò che fa il progetto Società Creativa. Spero che ora sia chiaro perché dobbiamo informarci a vicenda e unirci per costruire la società creativa. Grazie Elisabetta, grazie enorme. Un'altra domanda frequente è quante possibilità abbiamo di trovare una soluzione quando ci riuniamo? Forse John potrà rispondere a questa domanda. Grazie Olga, grazie della domanda. Se parliamo, allora non ci sono garanzie. Il futuro è quello che creiamo come umanità, ma se costruiamo una società creativa, credo che le possibilità di trovare la soluzione siano molto buone, anzi astronomicamente migliori. Perché? Innanzitutto, la vera causa delle catastrofe climatiche sarà evidente a tutti e così noi come umanità potremo iniziare ad affrontare il problema corretto, senza sprecare la nostra attenzione su una falsa truffa della CO2 o delle zone di dollari in sciocchezze sull'energia verde. Tutti noi ci impegneremo per risolvere il problema vero. In secondo luogo, gli scienziati geniali e nascosti al pubblico potranno essere liberati nella società creativa. Cosa ancora più importante? Potranno collaborare apertamente per sviluppare soluzioni. Questo, la capacità di lavorare insieme è molto importante perché credo che tutti noi capiamo che un'unità o una squadra può ottenere molto di più della somma dei singoli individui e unire il nostro potenziale scientifico ci darebbe la migliore possibilità di sopravvivere. In terzo luogo, tutto appartiene a noi, all'umanità e quindi i nostri scienziati possono ricevere sostegno e risorse sufficienti per avere successo. Quarto, questi scienziati non partiranno da zero, anche se purtroppo non per risolvere i problemi climatici hanno già esperienza nello studio del tipo di energia che sta causando i problemi climatici. E infine, c'è un enorme incentivo, ognuno di questi scienziati capirebbe appieno qual è la posta in gioco. Ovvero che non si tratta solo della loro vita, di quella dei loro familiari e amici, ma di fatto della vita dell'intera umanità. Se faliscono, se falliscono, tutti noi falleremo e moriremo miseramente. Se hanno successo, tutti noi sopravviveremo e vivremo in un modo meraviglioso. Credo che questa sia una motivazione sufficiente, no? Per riassumere nella società creativa, ci saranno le persone migliori a lavorare insieme sul problema reale, con risorse, esperienze e incentivi sufficienti. Pertanto credo che la possibilità di trovare una soluzione sia molto alta quando ci riuniamo. Grazie mille, John. La risposta alla prossima domanda è già stata fornita, ma vorremmo sottolineare ancora una volta, dato che questa domanda ci capita spesso. John, per favore, rispondi anche a questa domanda. Come possono gli scienziati sedersi intorno a un tavolo? Sì, ciò richiede che non ci siano più guerre nei gruppi di persone stati che cercano il potere o il dominio sulle altre. Cosa è impossibile in un mondo consumistico? Perché non è redditizio regalare o rendere pubblici gli scienziati geniali su cui gli stati fanno affidamenti per i loro scopi strategici. Solo cambiando il formato della società in cui la vita umana ha il valore più alto e in cui la verità prevale, gli scienziati nascosti che hanno il vero potenziale per risolvere il problema del clima saranno resi pubblici e potranno sedersi allo stesso tavolo per affrontare il problema del clima e salvare l'umanità. Ma quegli scienziati che non sono in uffici chiusi, che lavorano pubblicamente e non sono corrotti, che capiscono la vera causa del cambiamento climatico e la necessità di agire. Cercano di portare questa verità a tutti in modo che noi l'umanità comprendiamo davvero la situazione e siamo in grado di agire in risposta. Hanno bisogno di un sostegno massiccio da parte nostra, altrimenti questi scienziati rischiano di essere molestati e perseguitati. Le persone che dicono la verità vengono effettivamente messe a tacere e se ne dubitate? Date un'occhiata alla mia storia personale nel forum. Grazie John. Eventi come questo sono solo eventi e spetta le persone a decidere cosa fare con queste informazioni. Dipende da quanto ogni persona sarà attiva e diffonderà questa informazione agli altri. La nostra capacità di rendere la società creativa una realtà dipende da noi, dalla gente comune. Se ci state guardando oggi e non avete ancora guardato il forum, fatelo per favore. Si chiama Crisi Globale, la nostra salvezza e l'unione. Ed è disponibile online in 150 lingue, perché queste informazioni devono raggiungere ogni singola persona. Questo forum è stato grandioso per le dimensioni e le informazioni presentate. Dovete conoscere queste informazioni. È davvero un punto di svolta nella nostra storia. Guardatelo oggi, condividetelo con i vostri amici e diffondetelo con le vostre azioni. Sì, grazie Olga. Si può vedere la reazione della gente al forum è stata straordinaria. I social media si sono riempiti di video, di feedback. Le persone capiscono quanto sia importante condividere queste informazioni vitali. Vedere quante persone sane, comprensive, intelligenti ci siano è davvero commovente. E questi video stanno diventando virali, guadagnando milioni di visualizzazioni. Quindi è fondamentale mantenere lo slancio e continuare a condividere questi contenuti. E allora diamo un'occhiata ad alcune delle persone che hanno registrato e pubblicato le loro impressioni. Vi consiglio vivamente di andare a vedere un video su YouTube intitolato La nostra salvezza e l'unione. Ma se questa non è la cosa più dannatamente importante che guarderete per i prossimi sei anni della vostra vita, non so cosa sia più importante. Non so davvero. Il tempo rimasto al genere umano è di 13 anni. 13 anni, 10 mesi, 9 giorni, 1 ora, 30 minuti e 2 secondi prima di essere finiti. Perché nessuno ne parla? Tipo cosa? Ci restano davvero 13 anni di vita? Si tratta del cambiamento climatico o di quella stronzata del riscaldamento globale di cui parlano? Si tratta dei limiti del sistema solare? È qualcosa che accade ogni 12.000 anni? Questi scienziati si sono riuniti da tutto il mondo e hanno previsto che entro il 2036 questo mondo non sarà più vivibile. La società creativa ha una soluzione per ottenere un dispositivo di energia libera per alimentare tutto il mondo, non solo in luoghi selezionati, non solo in paesi selezionati, ma ovunque nel mondo. Penso che tutti dovrebbero guardare questo video, letteralmente tutti, di qualsiasi razza, nazionalità, religione, non importa. Tu sei una persona, devi guardare questo video. Crisi globale, la nostra salvezza è l'unione, ma ha fatto scattare la molla recentemente. Si tratta della società creativa e credo che sia così importante diffondere questa notizia. Sono disposta a fare qualsiasi cosa, anche a mettermi in imbarazzo in un video su TikTok o qualsiasi altra cosa. Voglio solo diffondere la notizia a quante più persone possibile, perché come dice questo video, la nostra sopportazione è la vivenza nell'unità e sento che siamo così divisi e che dobbiamo unirci. Yellowstone sta mostrando segnali allarmanti. Guardate questo video. Questi sono gli scienziati. Si uniscono per condurre una ricerca aperta. Sanno per certo che non supereranno il 2036. guardate qui, abbiamo solo 5 anni per risolvere il problema. È un gruppo di medici e scienziati per frenare i vulcani. Ora il nostro edificio, la nostra casa è in fiamme. Non si può ignorare la cosa con un'altra ignoranza. Si tratta di aprire gli occhi, di fare ricerche indipendenti e di guardarsi intorno. Tutti vediamo cosa sta succedendo sul pianeta. Vediamo i terremoti. Abbiamo appena visto i vulcani attivarsi per la prima volta negli ultimi 40 anni. Dobbiamo crescere ad essere molto più sicuri e dobbiamo tutti unirci e sistemare la situazione. È un problema che riguarda. Quindi, se volete vivere in una società creativa come faccio io, sicuramente, sicuramente. Informatevi, istruitevi su questo tema. Voglio fare la mia parte perché sento di avere la responsabilità di fronte di diffondere la parola. Quindi, qualsiasi piattaforma io abbia, la userò. Prendete il vostro computer e visitate il sito creativesociety.com per maggiori informazioni. Ragazzi, vedete come sono le persone? Sono grandi. Non sono silenziose. E per favore non tacete d'ora in poi voi. Non fermatevi, finché tutti non saranno informati. Questo è esattamente ciò che si deve fare ora. Fare TikTok, brevi clip, pubblicarli su tutti i social media per informare ogni singola persona e noi lo faremo. Molti di voi sanno anche che dopo il forum la nostra salvezza e l'unione siamo stati invitati a Washington per incontrare i responsabili politici. La conclusione principale è che molti di loro sanno che sono preoccupati per la situazione critica del clima e che la colpa non è della CO2, ma non possono parlare per non scatenare il panico. Sì, era scelta un esponente che mostra la crescita e l'aumento degli eventi. 12.000 anni fa questi eventi sono accaduti così improvvisamente e velocemente che vengono interpretati come una caduta del meteorite. Ma in realtà non era un meteorite, perché un meteorite non può diffondere il polvere sul tutto il pianeta. Invece ciò che è accaduto nel ciclo precedente, incendi, eruzioni vulcaniche, terremoti, ci sono dappertutto questi segni, queste impronte. Vedrete che questo marker questo marker si trova in tutti i posti su tutto il pianeta, ma è accaduto così improvviso, così veloce, come se forse ci servivano un paio di decenni. Ma in realtà io penso che è stato molto accaduto in un attimo. Per questo noi non abbiamo preso la teoria che viene proposta adesso sulla CO2 che ci sono ancora 50 anni e poi si cambierà. Noi abbiamo preso un altro modello, quello di esponente dell'aumento. Vorrei spiegare come potrebbe essere veloce. Si tratta di una progressione geologica. Vi ricordate la domanda sulla esposizione geometrica? Allora, c'è un'area del lago che è invasa da Ninfei. Ogni giorno la superficie raddoppia. Si sa che le Ninfei copriranno l'intera superficie del lago in 48 giorni. In quanti giorni le Ninfei compriranno esattamente la metà della superficie del lago? Scrivete le vostre risposte nei commenti e se risponderete correttamente all'indhovenello capirete quanto fruscamento possa avvenire il rilascio di magua nella fossa delle Marianne e conseguente il colpo d'arriete. Grazie. Sì, grazie Elisa. Sì, adesso noi vediamo che sempre si aumenta. Per esempio, anche quelli che sono in politica. Molte persone lo sanno. Molti di voi, cari spettatori, avete saputo già dopo il forum che è la nostra salvezza nell'Unione. Abbiamo invitato gli speaker a Washington, a Colombia per un incontro e abbiamo capito che molti di loro erano a conoscenza della situazione climatica e che CO2 non è la causa del cambiamento climatico, ma non possono parlare apertamente per non causare il panico. Capiscono anche che l'unica soluzione è cambiare il formato della società per unificare il potenziale scientifico dell'umanità. Sono pronti a sostenere questa soluzione quando vedono una richiesta di massa da parte della gente. Abbiamo anche visto molti tweet e TikTok con domande perché i media non rispondono le informazioni del forum. Dopotutto questo non poteva passare inosservato. Eppure nessuna rivista ha fatto un commento. La risposta è semplice, non lo sapete anche voi. Promuovono solo il loro sponsor. Non sono persone libere con opinioni propri. Sono rapsodi venduti pronti a scrivere qualsiasi cosa per un prezzo. Venderebbero la loro stessa madre per un dollaro e la loro stessa casa che è già in fiamme. Abbiamo già visto il loro articolo diffamatorio sulla BBC. Ora non hanno nulla da dire perché le nostre informazioni sono troppo concrete, logiche, strutturate e hanno molto più senso della loro narrativa sulla CO2. Quindi per ora sono stati messi a tacere. Ma non importa, è molto più importante non tacere per noi stessi e per tutti noi, persone comuni. Siamo al 99% e ora ognuno di noi può raggiungere milioni di persone attraverso un singolo tweet o un video di TikTok. Quindi non aspettiamo che qualcun altro faccia il lavoro. Facciamolo noi stessi, facciamolo sentire al mondo intero e ora vorrei suggerire di guardare una parola potente, plasmata in una bellissima poesia di Roy Star e Sound Sick. Alcuni l'hanno definita la poesia più bella che abbiamo mai sentito. In effetti la sua bellezza sta in idea di unità che salva la vita in ogni parola scritta in questa poesia. Da migliaia di anni abbiamo cambiato confini, slogan e funzionari, ma non siamo mai riusciti a fare tabola rasa. Le stesse gride di protesta, gli stessi manifesti, gli stessi telegiornali ci spiegano per cosa dovremmo morire. Per la fede, per un nome, per l'idea di qualcuno, per la gloria, per la libertà, per il potere, per un pezzo di terra. Tutto sarà dimenticato. Perché il tempo cancellerà tutti i nomi e la fama, tutti i trionfi e gli obiettivi lasciando solo tombe. Per migliaia di anni, noi, l'intera umanità con il nostro sangue e la nostra mente, con la nostra forza e il nostro respiro e il tempo della nostra vita, paghiamo i manieci pungolati dal potere per i frutti dei loro ambiziosi desideri, per la loro famelica avidità. Paghiamo con i nostri cuori, con le nostre madri, con le nostre figlie. Distrattamente conduciamo i nostri figli al macello. Tutto per permettere a qualche tiranno di dire, sono io che ho conquistato questa terra. Nei media leggiamo scuse per gli omicidi. Resistete, ci dicono debolmente. Ma lascia che ti chieda, amico mio, di dire onestamente alla verità. Quanto vale la tua vita per te? Dimmi, una manciata di terra vale la vita di un bambino? Vale il nostro sangue e le nostre lotte? Vale il dolore e la sofferenza di un cuore umano? Vedi, questa lotta cieca non avviene nella natura, ma nel campo di noi stessi, nel campo delle nostre opinioni e idee, nei nostri giudizi. Non l'hai notato? Ci spostano da una parte all'altra come pedine, mentre noi continuiamo a stare in piedi senza fiattare, aspettando umilmente che qualcuno parli, qualcuno che non ne può più. Così comincerà a parlare e a gridare quello che tutti noi non possiamo tacere, quello che c'è dentro di noi come una tempesta che vuole scoppiare. Non c'è destra e sinistra in questo mondo, non c'è io e tu, ci sono solo persone su questa terra. Tutti vogliamo vivere, non vogliamo morire, siamo chiamati a vivere, non a non uccidere. Allora perché abbiamo bisogno di un mondo in cui la vita non è valorizzata? Un mondo in cui saremo finiti dal clima o dal nostro senso di disallineamento dell'orgoglio. Dopotutto è meglio il mondo in cui la vita è valorizzata, in cui la vita è favorevole per tutti e in cui l'obiettivo è lo stesso. Il formato chiaro della società creativa è a vantaggio di tutti, innegabilmente. Questo modello è un'alba di umanità. Ma è allora che l'umano che in noi fiorirà, scopriremo noi stessi il nostro talento di creare, sarà incoraggiato. La chiave per cambiare la nostra vita negli otto fondamenti che devono essere incorporati nelle Costituzioni delle Nazioni, in modo che ci sia benessere e vastità della creazione. Il mondo intero deve essere trasformato in un bellissimo giardino per farci vivere in un oasi di abbondanza. È facile cambiare il formato del nostro mondo, dobbiamo solo iniziare a diffondere la parola. Ed è per questo che dobbiamo proclamare ad alta velocità che la società creativa è ciò di cui tutti abbiamo bisogno. Ecco perché vi dico, parlate, perché la parola che nasce da dentro avrà l'oppressione del silenzio scuolato. Oggi la nostra sopravvivenza è solo nell'umanità. È l'unica via e soluzione per l'umanità. Perciò ti chiedo ora, amico, di a tutti quelli che incontri, per l'evoluzione dell'umanità, la società creativa è ciò di cui abbiamo bisogno. La società creativa è ciò di cui abbiamo bisogno per renderla una realtà. Vorrei aggiungere che le vostre semplici azioni, le nostre semplici azioni, che non richiedono molta attenzione e tempo, cambieranno il mondo. Vorrei anche aggiungere che è veramente importante l'azione di ognuno di noi. Potete condividere il link al Forum Crisi Globale della nostra salvezza e l'unione e alla trasmissione di oggi con i vostri parenti, amici, colleghi e così via. Ogni persona merita di conoscere ciò che sta per accadere e la soluzione. La società creativa è il mondo dei vostri sogni, in cui tutti riceveranno benefici immaginabili. Ci sono persone che cercano questa soluzione, persone che stanno perdendo la speranza, ma voi potete essere quella stella splendente, informandole sulla società creativa. Parliamo delle tecnologie della società creativa. Alexei, la prossima domanda che i nostri telespettatori ci pongono spesso, penso che è per te. Quando verrà rilasciata al pubblico, al popolo, la nuova tecnologia? Olga, è una bella domanda, un'ottima domanda, che sembra avere una risposta semplice, ma che presenta molti aspetti. Esaminiamo alcuni. Chi ha fatto ricerche su questo argomento sicuramente sa che molte delle tecnologie che potrebbero cambiare completamente la nostra vita, in meglio, non solo sono state limitate nello sviluppo, ma sono state distrutte di proposito. I loro inventori perseguiti e molti di loro sono scomparsi in strane circostanze. Prendiamo ad esempio l'IA che potrebbe ridurre drasticamente la quantità di lavoro umano. vediamo che già il GPTA sta conquistando il mondo, le persone la stanno usando in tanti modi creativi e questo sarebbe bellissimo nella società creativa. Ma quale sarà il risultato nel nostro attuale formato consumistico? Centinaia di migliaia di persone che perdono il lavoro e rimangono senza mezzi di sostentamento. Oppure diamo un'occhiata alle nostre vite in termini di energia. In pratica passiamo tutta la vita a lavorare per soddisfare il nostro fabbisogno energetico. Procurarci cibo a sufficienza, energie per il nostro corpo, elettricità o gas per riscaldare e alimentare le nostre case e cucinare il cibo, carburante per le nostre auto, pagare i trasporti pubblici per raggiungere i luoghi. Tutto ruota intorno all'energia e in particolare all'elettricità. Esistono già numerosi esempi di FFG, generatori senza combustibile, che probabilmente avrete visto online, molti dei quali risalgono a diversi decenni fa, come il lavoro di John Searle. Sul nostro canale YouTube è disponibile un ottimo video sulle FFG. In breve queste macchine generano più energie di quella che consumano, il che significa che possono fornire continuamente energia appuntante e gratuita. Possono essere installate in ogni caso, sui veicoli, ovunque sia necessario. Immaginate se nel nostro mondo di oggi introducessimo l'energia gratuita. Quante persone coinvolte nell'estrazione, nella raffinazione, nel trasporto, nella vendita, eccetera, dei combustibili fossili e dell'elettricità perderebbero il lavoro senza la possibilità di trovare un'occupazione altrove. Ecco perché dobbiamo cambiare il formato della società in uno creativo, dove la vita umana è il valore più alto, dove tutti i bisogni di ogni persona sono soddisfatti, dove avremo un reddito di base incondizionato, un'economia stabile e tutti avranno la possibilità di lavorare se lo desiderano. Solo allora saremo in grado di introdurre tutte le tecnologie che esistono già oggi, ma che ci vengono nascoste, così come le nuove scoperte rivoluzionari che saremo in grado di fare una volta che tutti avremo scelto la società creativa. Sì, grazie Alexei. Le informazioni tecniche sono sorprendenti, sono entusiasta delle nuove tecnologie che migliorano la nostra vita. Un'altra domanda che abbiamo ricevuto dalle spettatori che hanno seguito il forum, che si è svolto sulla piattaforma Creative Society, crisi globale alla nostra salvezza all'Unione, è quanto tempo ci vorrà perché gli ospedali si trasformino? Tutti i malattie sono curati immediatamente? Olga, puoi rispondere forse tu a questa domanda? Sì, grazie. Questo argomento è molto vicino, perché la vita umana è la cosa più importante nella società creativa, l'assistenza sanitaria sarà una delle prime questioni da affrontare. Ma è difficile dire quanto tempo ci vorrà per trasformare gli ospedali, saranno gli ospedalisti del settore sanitario e gli esperti a dare il via all'azione. Come abbiamo detto nel forum, già nel periodo di transizione verso la società creativa, gli ospedali saranno dotati di tutto il necessario per curare i pazienti. Non appena inizieremo il processo, tutte le nuove tecnologie saranno implementate e disponibili gratuitamente per ogni persona senza eccezioni. Già oggi queste tecnologie possono curare malattie e patologie molto gravi. Al forum Crisi Globale della nostra Salvezza e l'Unione abbiamo elencato alcune tecnologie che già esistono e che si sono dimostrate efficaci nel trattamento di malattie che si diceva non fossero curabili. Pertanto, la maggior parte delle malattie critiche può essere curata già oggi e lo sarà durante il periodo di transizione verso la società creativa. Importante sapere anche che una volta entrati nella società creativa disporremo di tecnologie che ci permetteranno di correggere e curare il nostro corpo comodamente da casa. Nella nostra doccia sarà installata come esempio una capsula o un sistema per scansionare e risolvere qualsiasi problema del nostro corpo. Malattie, disabilità, patologie e disturbi vari, tutto scomparirà. Ci sarà un trattamento immediato. La seconda domanda è se saranno curati immediatamente. Sì, ci sarà un trattamento immediato per i malati con tecnologie già sviluppate ma non ancora implementate. Questo accadrà quando inizieremo la transizione verso la società creativa. Inoltre, nella società creativa le persone non solo saranno in salute, ma vivranno anche molto più a lungo. In realtà, cari telespettatori, è straziante vedere così tante persone a soffrire oggi nella nostra società consumistica, soprattutto quando si sa che ci sono tecnologie che esistono e possono salvare questi viti, ma non vengono utilizzate. Quindi, ragazzi, unitevi a noi, fate le vostre ricerche su come la società creativa ci porterà benefici. Sono certo che troverete più di quanto voi possiate prevedere. Guardate il forum crisi globale della nostra Salvezza dell'Unione che contiene informazioni che ci salverà la vita. Grazie, Olga. L'assistenza sanitaria, così come gli altri vantaggi di vivere in una società creativa, sono desiderati da tutte le persone e molti si chiedono come partecipare. E questo è molto bello quando tutto sarà la sanità gratuita per ogni persona. Ma tante persone si chiedono cosa posso fare io, cosa posso personalmente dare da parte mia un aiuto a qualcuno. Chi vuole rispondere a questa domanda? Cosa posso fare esattamente io? Sì, salve. Vorrei io rispondere a questa domanda perché abbiamo davvero molte domande, molti commenti, messaggi e email con una semplice frase. Come posso aiutare? Io come posso partecipare? In modo che voi e altri possiate unirvi a noi, che insieme siamo più efficaci nel diffondere il messaggio che tutti gli 8 miliardi di persone conoscono e sostengano il progetto della società creativa. Come si può ottenere questo risultato? Da dove cominciare? Parlate della società creativa, la vostra famiglia, i vostri amici, i vicini di casa, i colleghi di lavoro, in pratica tutti quelli che conoscete. Condividete le informazioni sulla società creativa sui social network. Potete scrivere commenti ai video. Se siete i blogger, potete fare i vostri video a blog, scrivere post, condividerli sui social network, inserire i banner sui vostri siti web, sui vostri account personali. Fare in modo che i vostri social network esplodano di informazioni sulla società creativa. E ogni utente della rete diffonderà la notizia in tutto il mondo. Potete anche indossare i capi di abbigliamento con il logo della società creativa, come un cappellino da baseball o una maglietta, distribuire delle cartoline, i volantini con le informazioni del sito web sul progetto società creativa, mettere una bandiera nel vostro giardino, applicare il logo su un adesivo sulla vostra auto, oppure decorare la vostra bicicletta con un logo. Lasciate informazioni sulla società creativa nei caffè, negli ambulatori medici, nei negozi, nei supermercati, dal parrucchiere, sull'aereo, ovunque. Non sapete dove trovare le bozze degli adesivi. Basta andare sul sito web creativesociety.com nella sezione design e scegliere quello che vi piace di più. Quindi, facciamo tutto il possibile per costruire la società creativa il prima possibile. Scrivete poesie, canzoni, fate brevi video, meme, persino battute sulla società creativa. Per esempio, una frase può essere scritta sulla carta igienica. Se non sostieni la società creativa, non usarmi. Se siete imprenditori, mettete il banner della società creativa sul vostro sito web o aggiungete il logo ai vostri prodotti, dimostrando che avete a cuore tutte le persone. Uno dei metodi più veloci per trasmettere informazioni sulla società creativa è quello dei media. Partecipate al talk show, podcast, notiziari o qualsiasi altro programma sulla società creativa e i suoi benefici. Potete inoltre inserire annunci sulla società creativa in articoli, giornali, riviste, cartelloni pubblicitari. Inserire contenuti della società creativa nelle televisioni locali e globali. Il logo del progetto Società Creativa dovrebbe essere ovunque, in tutto il mondo. Dovrebbe essere riconoscibile in ogni angolo del pianeta. Sì, amici. E non dimentichiamo degli stream di TikTok e i dueti video che ci permettono di raggiungere milioni di persone in tempi brevi. E che così le persone vedranno che proprio le persone condividono tutto questo e fanno interretta. Così potete avere feedback e così le persone potranno avere le risposte alle loro domande. e vedranno che noi tutti quanti possiamo unirci e possiamo fare quello che vogliamo. La verità è che questo noi lo facciamo per tutti quanti e possiamo avere tanti strumenti per farlo e possiamo usarli per raggiungere in breve tempo. Grazie mille, sì, le informazioni sulla società creativa possono essere comunicate in vari modi creativi. Sappiamo già, adesso ascoltiamo una canzone presentata in anteprima al forum, una canzone che è intitolata Unità. Grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille. Grazie mille, 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 gra Grazie a tutti. 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 A noi non ci dispiace. Quando lo farete? Ma ad essere seri riceviamo sempre questo tipo di domande. In continuazione? Posso rispondere a queste domande? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Abbiamo iniziato a sviluppare? Grazie a tutti. 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 La società creativa sarà finanziata solo da coloro che difendono gli interessi dell'umanità. Voglio vivere in condizioni migliori, voglio che i miei figli vivano in condizioni migliori. Siamo tutti un gruppo di persone razionali, vediamo i problemi che stiamo affrontando e comprendiamo la gravità della situazione attuale che stiamo affrontando come umanità e ne parliamo. Grazie Wilkins, sì, la società creativa è la soluzione migliore per risolvere tutti i problemi esistenti che affrontiamo al giorno d'oggi e vi invito ad approfondire personalmente e riuscirete a rispondere da sole a queste domande. Un'altra domanda che riceviamo, cosa succederà se cercheranno di modificare gli otto principi dopo essere stati votati? Si tratta dei politici. È una giusta domanda. Voglio ricordare ai nostri spettatori che non stiamo aggiustando nulla in una società consumistica, ma stiamo costruendo un nuovo formato, una società creativa. I politici rappresenteranno semplicemente la volontà della gente, non prenderanno decisioni. Quando avremo una piattaforma elettorale, la corruzione sarà impossibile, tutto sarà disponibile pubblicamente. Nel periodo di transizione avremo piena trasparenza e apertura delle informazioni. Così nessun politico potrà modificare, cambiare o fare qualcosa alle nostre spalle, perché il potere appartiene veramente al popolo. I politici in una società creativa non sono al di sopra di nessuno, sono persone comuni e riceveranno 10.000 dollari al mese di reddito di base incondizionato proprio come voi e me. Non hanno potere su di noi, ma si assumono la responsabilità, sono le persone a prendere decisioni, non i politici. Se un politico va contro il popolo, lo richiamiamo perché ha dimenticato la sua responsabilità nei nostri confronti. Tutta la corruzione viene sottoposta a revisione e discussione pubblica. E poiché i media appartengono a noi, al popolo, tutti sapranno che un politico sta giocando sporco. Questo rende una persona responsabile dall'esempio ad altri politici o dirigenti affinché agiscano per il bene comune. E sì, capiremo qual è una buona forma di punizione per chi ci sta facendo retrocedere. Decideremo quale sarà la punizione, ma dovrà essere grandiosa, in modo che a nessuno venga in mente di commettere crimini contro l'umanità. Stiamo costruendo una società creativa per noi stessi, per nessun altro. Non siamo più schiavi del sistema, poiché ora abbiamo l'obiettivo come civiltà di costruire una società creativa. Tutto ciò che ci rallenta o ci impedisce di andare avanti sarà visto come un pugno nell'occhio. Riuscite a immaginare quanto saranno felici i politici? Potranno finalmente assumersi la responsabilità di vedere cambiamenti positivi nella società e potranno essere veri eroi, non cattivi come ora. Quindi per voi ho una domanda finale. Cosa aspettate? Alzatevi. Prendete la vostra vita nelle vostre mani, quella dei vostri cari. Il tempo sta per scadere e dobbiamo ancora informare ogni singola persona sul nostro pianeta. Nelle nostre case, continuate a fare domande, a ricercare e a capire. Una società creativa è l'unica via d'uscita. È equa, giusta ed evolutiva. Guardate il forum, cliccate su Unisciti a noi sul sito della società creativa. State al nostro fianco e offritevi come volontari per diffondere le informazioni. E i mass media non parleranno di queste informazioni cruciali per la vita, perché non sono dalla parte dell'umanità, ma dei profitti. Ma noi, il popolo, non rimarremo in silenzio. Con il vostro aiuto informeremo tutti sulle vere cause del perché abbiamo bisogno di un formato di società creativa. In questo modo, tutti avranno una scelta. È l'ultima possibilità di non limitarsi a sopravvivere, ma di prosperare al di là dei nostri sogni più sfrenati. Sei con noi?